Ciao, sono la dottoressa Valeria della farmacia Labrozzi. Sei uno sportivo e ti piacerebbe sapere che c'è un piano alimentare in cui tutto ciò che ti serve sono pochi quadratini di cioccolato al giorno? Ebbene, questo è possibile almeno secondo quanto è stato rivelato di recente da uno studio condotto dalla University of Kingston di Londra che è stato condotto su un gruppo di ciclisti amatoriali. Il fondente in particolare sembra aiutare appunto gli sportivi perché potenzia la performance, aumenta quindi le prestazioni riducendo il consumo di ossigeno. Infatti tra le proprietà del cioccolato fondente vi è proprio il suo contenuto di antiossidanti, soprattutto i flavonoidi che favoriscono la produzione di sostanze come l'ossido nitrico che aumentano la vasodilatazione, quindi la dilatazione dei vasi sanguigni e riducono quindi il consumo di ossigeno. Spero che il mio consiglio ti sia stato utile e ricorda che alla farmacia Labrozzi ci sta a cuore la tua salute.